Previsioni meteo per martedì 4 luglio Martedì 4, ci aspetta un cielo caratterizzato da un'alternanza di nuvole e schiarite Le precipitazioni saranno abbastanza probabili, con una probabilità medio-alta di piogge a tratti in vari momenti, che prima o poi interesseranno tutte le zone In prevalenza si tratterà di piovaschi e rovesci, con possibilità di temporali locali